Ci sarà anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte all'Assemblea Nazionale della CNA che si svolgerà sabato 26 ottobre al Palaprometeo di Ancona. L'evento che accende riflettori sul mondo dell'artigianato sarà un'occasione per parlare anche di ricostruzione alla luce del nuovo decreto sisma. La scelta fatta anche nel Consiglio dei Ministri per quanto riguarda le scelte del terremoto rispondono pienamente a quelle che erano le nostre richieste e le nostre aspettative. D'altra parte, dopo questo evento nefasto, per certi versi, la ricostruzione è un volano fondamentale per le Marche per i prossimi 10-20 anni. L'evento annuale della CNA tocca ogni anno una diversa città. L'edizione del 2019 sarà un'occasione per far conoscere l'artigianato made in Marche e le sue eccellenze. Noi siamo la regione più artigiana d'Italia, in un qualche modo siamo un popolo estremamente laborioso, sempre concentrato e facciamo poco rumore a differenza di altri. Allora abbiamo messo insieme questa esigenza di valorizzare il nostro territorio, la nostra realtà marchigiana, con la possibilità di fare per la prima volta l'Assemblea nelle Marche. Quindi abbiniamo insieme una valorizzazione del territorio, delle imprese che noi rappresentiamo con la valorizzazione del nostro sistema verso chi decide, i decisori, quindi le istituzioni. La presenza del Presidente del Consiglio conferma e valorizza questa...